Io non ho imitato nessuno, ho alimentato un sogno della mia adolescenza. Quello che è il risultato è la conseguenza di una mia determinazione. Oggi non è solo un giorno importante per Modena, ma è un giorno importante per l'Emilia Romagna e per il Paese. Quella che è a nostra spalla è una struttura di grandissima rilevanza, non solo dal punto di vista simbolico, non solo perché oggi riprende vita e forma la casa natale di Enzo Ferrari, non solo perché si rende omaggio ad un grandissimo della nostra terra, della nostra storia, ma è molto importante che questo non resti un cerimoniale. C'è un luogo in cui si ricorda qualcuno e gli si rende omaggio. Questo deve essere un inno all'impernitorialità, un inno al mettersi in gioco, un inno allo scommettere. Vorrei che questo diventasse il luogo simbolo per i giovani domani, non per le generazioni che ci hanno preceduto, che certo sono quelle che hanno fatto grande l'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna, ma questa qui è la dimostrazione che è un sogno, nel momento in cui ci si crede, nel momento in cui ci si investe, può diventare realtà. Inutile dire che siamo nell'eccellenza della nostra regione, della nostra Modena e della nostra Emilia Romagna, non solo per i motori, ma per cui qui c'è davvero i gioielli, ci sono davvero i gioielli della nostra terra e del nostro saper fare. Ecco, è molto importante che questo sia un percorso tracciato per i ragazzi. Il compito della politica e delle istituzioni è quello di accompagnare chi si mette in gioco. E quindi questo deve essere anche uno spazio nel quale ognuno di noi trae spunto e vigore nel sostenere l'impresa di altri, nell'affiancarsi alla scommessa di altri. Perché l'unico modo per uscire da questa crisi sulla quale ci stiamo arrovellando è proprio il tornare e mettersi in gioco. Quello che Enzo Ferrari da dentro questa officina meccanica ha fatto alcuni anni fa, quella di provare, di scommettere e di vincere quella davvero che è stata una sfida, che non è stata solo quella personale di Enzo Ferrari, ma di tante persone che hanno fatto grande la Ferrari.